Si aprono le porte del cancello e Giacomo, Matteo, Fabio e Mayer si attentano nell'anzionale Ragazzi siamo! No, il campo dal tennis! Madonna bestia! Lì c'è una piccola piscina Guarda la piscina! Guarda la piscina! Una vasca da bagno, eh! Oddio, via! Guarda la piscina! Ah, come è la testa della tua macchina? Ragazzi, questa cosa è da uso! Ragazzi, non sa che abbiamo sbagliato tutto nella nostra vita Che cazzo avevamo fatto di male noi? Ma proprio tutto! Ragazzi c'è da mettere soldi per il pacchetto Sì, non è segreto Prodanno i loro soldi per il pacchetto Ci danno la macchina di poca!